Per molti cittadini è una parola nuova, compostaggio. Parte da qui, Villa Dante, che cos'è e come funziona? Questo progetto è un'iniziativa cittadina. Siamo 12 partecipanti che ha voglia di smaltire i nostri rifiuti organici. Il compostaggio è il processo biologico dell'organico che si smaltisce, con foglie, umido e microorganismi che ci mangia il tutto. Quando hanno finito il processo diventa teraccio, che possiamo usare per mettere nei nostri pianti, nel giardino, nell'orto. I cittadini che vogliono partecipare, far crescere questa iniziativa, cosa devono fare? Devono andare sulla pagina Facebook, farsi sentire, dire che hanno voglia di riprodurre il progetto. Io gli mando il progetto come è stato scritto e poi insieme vediamo come andare verso riprodurle in altre vile, altri condomini o giardini personali che hanno a casa. Intanto ci sono questi contenitori già pronti che possono essere già utilizzati dai cittadini messinesi. Ne abbiamo messo cinque, noi ne usiamo uno per adesso, due in pochi mesi. Ne rimangono due liberi, che devono essere ancora numero chiusi. Gente che si mettono insieme, dodici persone che hanno voglia di fare questo progetto, anche sei persone che usano una compostiera soltanto invece di due. Si mettono insieme, io faccio la formazione a queste persone e poi diventano autonomo. Grazie.